Misure igieniche di prevenzione contro il coronavirus. Segui il nostro consiglio. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone liquido o un gel a base alcolica. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Evita contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro. Evita bracci o strette di mano. Evita luoghi affollati. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la piega del gomito. Se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa. Non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale. Se vuoi bene a te e ai tuoi cari, rispetta le regole. La tua prudenza è la sicurezza di tutti.